Musica Beh, un'emozione unica, un'emozione grande, anche perché siamo probabilmente gli unici che hanno fatto questo quest'anno, ecco almeno in questa zona, quindi veramente un grande onore, un grande senso di dire grazie. Musica E' bello stare finalmente, avere un afflato con chi sta in sala, di non essere solamente in streaming. Musica Quindi è bello, perché c'è qualcosa che torna, c'è qualcosa che torna sempre, dal pubblico ci dà una grande carica. Musica Il bilancio più che positivo non potevamo aspettarci di meglio, anche perché in questo periodo il Covid sta picchiando duro. Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche l'orchestra è stata veramente eccellente sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto nel preservarsi dai contagi Covid per tutte le prove in preparazione al concerto. Quindi siamo veramente molto soddisfatti, questa deve essere una tradizione che deve continuare negli anni a venire, assolutamente. Visto il successo che ha ottenuto questa sua iniziativa, si può dire una cosa, ma lei c'è un segreto, pensiero, sogno di fare un'orchestra stabile che porti Cortona in tutto il mondo? Assolutamente sì, questo deve essere soltanto l'inizio, è l'inizio, ma l'idea principale è quella di avere una stagione musicale guidata dalla nostra orchestra e farla diventare stabile, magari anche con l'aiuto del Ministero della Cultura, della Regione, proprio perché bisogna incentivare questo tipo di iniziative e soprattutto aiutare i musicisti del nostro territorio finalmente a trovare una collocazione professionale stabile.